Un'altra tecnica innovativa utilizzata per acquisire informazioni sotto forma di immagine è la fotogrammetria, che consente la ricostruzione tridimensionale di oggetti e ambienti grazie a fotocamere in movimento operate da subacquei o da veicoli robotici. Questa tecnica viene adoperata per monitorare gli ambienti profondi ma anche specie abitati di ambienti più superficiali come le praterie di posizione oceanica e si adatta anche per il monitoraggio di siti archeologici e la mappatura di relitti. L'acquisizione fotogrammetrica di relitti richiede diverse ore di attività in immersione soprattutto se condotta da subacquei. Per quanto riguarda l'esperienza condotta da Ispra con il supporto dei carabinieri subacquei, nell'ambito del rilievo condotto per l'LST di Punta Papa, sono stati necessari circa un giorno di acquisizione per l'elaborazione delle immagini. sono stati necessari circa 15 giorni di elaborazione dei dati. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!